Sono quasi 200 le classi che non possono fare lezioni in aula a causa della presenza di uno o più positivi. Per loro circa 3.800 studenti. Sono già scattate le quarantene e il ritorno alla didattica a distanza. 101 le classi bloccate dal coronavirus nei territori dell'Asle Toscana Centro, 53 nelle province dell'Asle Toscana Sud-Est e 39 nella zona nord-ovest della regione. Secondo il dirigente dell'ufficio scolastico regionale Roberto Curtolo i contagi all'interno degli istituti scolastici sono minimi ma l'applicazione restrittiva che danno le Asle della normativa nazionale penalizza la didattica. Servirebbe, ha sottolineato Curtolo, un tracciamento puntuale per gestire le minibolle e non mandare in didattica a distanza tutta la classe. Proprio su questo tema il governatore della Toscana Eugenio Gianni si è detto favorevole ad un'eventuale modifica dell'attuale sistema di isolamento dei ragazzi. Sono convinto, ha affermato che le regole della quarantena a scuola siano da rivedere con un po' di attenzione. Effettivamente per i vaccinati potremmo ridurre ancora i giorni. Al momento per chi ha già ricevuto il ciclo completo di somministrazione del siero anti-covid da almeno due settimane sono previsti sette giorni di quarantena con tampone al settimo giorno, mentre per i non vaccinati dieci giorni che diventano 14 in assenza di test diagnostico.